E qui abbiamo Benedetto, l'autore di Troppo Frizzante. Come stai? Grande! Dai, allora. Questa è una delle nostre novità. Autore e regista lavorano insieme sul set, in sinergia come negli USA. Vedrai, Ferro, ci divertiremo come dei pazzi. Posso chiamarti René? No, perdonami, chiamami René. Grande, troppo forte, anzi, troppo frizzante. Già mi piace. Vieni, ti faccio vedere il set. Troppo frizzante.